Combattete. Mi sto prendendo cura di te. Lascia che ti raccogli. Mi stanno attaccando! Mi prendo cura di te. Nemico eliminato. Compagno di squadra eliminato. Plusso curativo attivato. Tutti i compagni di squadra sono stati eliminati. Punteggio. Zero a uno. Seleziona il tuo eroe. L'immaginazione è l'essenza della scuola. Tre, due, uno, combattete. Questa ci proteggerà. La scuola la scuola è la scuola. Il è possibile. Non. Ci lanciare in più le scuola. Cieri, colore. Punteggio Uno a uno Seleziona il tuo erore L'immaginazione del senso Combattete Nemico Eliminato Compagno di squadra Eliminato Tutti i compagni di squadra Eliminato Punteggio Uno a due Seleziona il tuo erore L'immaginazione è l'essenza Due Uno Combattete Match point Questa ci protegge Nemico Nemico Eliminato Nemico Eliminato Punteggio Punteggio Due a due Seleziona il tuo erore L'immaginazione è l'essenza L'immaginazione è l'essenza Cosa L'immaginazione è l'essenza Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Compagno di squadra, femminile, sconfitta. Azione migliore della partita. Seleziona il tuo eroe.